Ciao a tutti, sono Tanijiri Makoto, oggi sono Makoto Tanijiri, l'architetto di questo progetto per la Toshiba. Con questo progetto abbiamo voluto provare a fare questo esperimento e a far provare il valore della luce in un modo completamente nuovo. Generalmente noi concepiamo un'architettura e dopo pensiamo alla luce e altri elementi. Con questa installazione noi abbiamo voluto partire proprio dallo spazio. E quello che noi ci spieghiamo è che tutti possano sperimentare il nuovo valore della luce.